Lo vedi con Rottweiler? Basta un niente per farlo scattare. E' una moto che è scattata non lo fermi più. E' nata per difendere e per combattere. Possono farlo fermarci in tutti i modi. Che pallotta, che pistola con le inchieste. 20.000. Metà subito. L'altra metà la consegna. Il confidante ha fatto il mio nome. Vuoi che vada a trovarlo? Magissima! Non importa quante latitanti o criminali tu abbia preso. E' una stronzata. Sei fuori. Mama! Loro non capiscono l'importanza dei compromessi. Il sangue è nostro. Non siamo come loro, Pepe. Non siamo come loro. Noi non siamo come loro, Francesco. Noi siamo poliziotti. Siamo i falchi. Non tu scorda mai. Noi ci rialziamo sempre. Noi ci rialziamo sempre.